Molti devono combattere i propri nemici, alcuni devono vincere sulla natura, devono trovare il modo di sopravvivere e per tutte queste operazioni c'è sempre un coltello extrema razio adatto alle vostre esigenze. Quello che mancava ed è finalmente arrivato è qualcosa con cui combattere la burocrazia, il paper knife di extrema razio, il colmo skin. Lo avevamo visto in Germania, a Ligua, a Nuremberg, e quello che avevamo visto già ci era piaciuto. Beh, con questo ragazzi potete combattere il caro bollette, potete combattere tutte le lettere che vi arrivano in ufficio che non volete leggere, è un tagliacarte, si capisce, no? Paper knife, non è affilato. Potete tenerlo tranquillamente sulla vostra scrivania in ufficio, fantastico così, in questo modo, ed è chiaramente una replica del famoso colmo skin, il coltello di extrema razio, ma senza filo, il cui filo è solo simulato, è bellissimo e serve per aprire le buste, per tagliare la carta. Credo che funzioni anche per vincere contro i distributori che hanno le merendine bloccate, ma io non vi ho detto niente. È disponibile con il suo espositore in plexiglass, questo è fantastico, quindi lo si mette così e rimane esposto, oppure potete acquistare la versione semplice, soltanto il coltello, da tenere nel cassetto, e sfoderare quando arrivano le multe, per aprirle con stile, perché poi ecco, la multa non è mai piacevole da ricevere, ma con uno di questi almeno possiamo fargli vedere chi comanda. Extrema razio colmo skin paper knife.